oggi per lanciare un intento applichiamo il concetto dell'effetto che anticipa la causa per utilizzare al cento per cento il potenziale mentale vale a dire sia la mente conscia che la mente subconscia rallentiamo la frequenza del cervello portandolo alle onde alfa e se ti alleni con costanza alle onde teta l'unica cosa che devi fare e preparare il tuo intento ascoltare la mia voce e seguirmi ti porterò in un viaggio dentro e fuori dalla tua mente dentro e fuori dal tuo corpo dentro e fuori dallo spazio e dal tempo dove diventi nessuno in nessuno spazio e in nessun tempo e quando diventi nessuno potrai unirti al campo quantico di infinite possibilità dove puoi diventare tutto e il tuo sogno diventa realtà dove entri in risonanza con ciò che desideri puoi fare questa meditazione ogni volta che vuoi finché il tuo intento si sarà materializzato trova un posto confortevole chiudi gli occhi e e rilassati prendi qualche respiro profondo inspira ed espira inspira ed espira ed espira inspira ed espira concentrati sul tuo bacino poni l'attenzione su questo spazio senti questo spazio dove va l'attenzione dove va l'attenzione va la consapevolezza adesso espandi la tua percezione nello spazio oltre il tuo bacino percepisci l'energia intorno al tuo bacino sii consapevole di questo spazio ora concentrati sulla tua pancia ora concentrati sulla tua pancia poni l'attenzione su questo spazio senti questo spazio dove va l'attenzione dove va l'attenzione va la consapevolezza adesso adesso espandi la tua percezione nello spazio intorno alla tua pancia fuori dal corpo percepisci l'energia intorno alla tua pancia e ai tuoi fianchi concentrati al centro del petto poni l'attenzione su anima cuore senti questo spazio senti questo spazio adesso espandi la tua percezione nello spazio oltre la cassa toracica percepisci l'energia intorno alla tua cassa toracica dove va l'attenzione va la consapevolezza concentrati sulla tua gola poni l'attenzione su questo spazio senti lo spazio senti lo spazio nella tua gola adesso espandi la tua percezione nello spazio oltre la gola oltre il collo percepisci l'energia intorno al tuo collo dove va l'attenzione va la consapevolezza sii consapevole di questa energia concentrati al centro della tua testa dietro gli occhi tra un orecchio e l'altro poni l'attenzione su questo spazio senti senti questo spazio dove va l'attenzione va la consapevolezza adesso adesso espandi la tua percezione nello spazio intorno alla tua testa fuori dal corpo percepisci l'energia intorno intorno alla tua testa concentrati sullo spazio che si trova circa 40 cm sopra la tua testa puoi immaginarlo come una sfera di luce poni l'attenzione su questo spazio senti questo spazio dove va l'attenzione dove va l'attenzione va la consapevolezza senti spazio 40 cm sopra la tua testa e adesso senti lo spazio intorno a te fuori dal tuo corpo poni l'attenzione su tutto lo spazio della stanza dove ti trovi e adesso espandi la tua consapevolezza oltre la stanza oltre la casa oltre la tua città espandi la tua consapevolezza oltre il continente oltre la terra oltre la galassia oltre la galassia espandi la tua consapevolezza nella vastità dello spazio distoli la tua attenzione dal tuo corpo dal tuo ambiente e dal tempo e diventa nessuno in nessuno spazio e nessun tempo diventa consapevolezza pura energia pura e sintonizzati con il campo quantico di amore incondizionato e gratitudine il campo quantico delle infinite possibilità sentilo sentilo dentro di te e intorno a te e intorno a te adesso ricordati la tua intenzione e sintonizzati con il tuo nuovo potenziale ricordati ricordati il principio dell'effetto che anticipa la causa senti vedi ascolta la tua intenzione già realizzata ricordati che il tuo corpo è in grado di generare qualsiasi emozione immergiti nel campo quantico delle infinite possibilità dove non c'è né spazio né tempo senti la tua intenzione già realizzata come ti senti quando hai ciò che hai sempre desiderato provi soddisfazione pienezza gioia e gratitudine espandi queste emozioni nel campo quantico di amore incondizionato e gratitudine e ricevi queste emozioni dal campo ricordati più dai più ricevi manda amore gioia pienezza felicità soddisfazione e gratitudine al campo quantico delle infinite possibilità e lasciati andare fidati dell'ignoto fidati dell'universo fidati fidati del tuo sé superiore apri il tuo cuore e ringrazia per la tua intenzione già realizzata ringrazia per la nuova vita prima che si manifesti e adesso pian piano riporta l'attenzione al tuo corpo percepisci la gentile forza di gravità che ti richiama al momento presente nota le sensazioni che provengono dal tuo corpo fai un respiro profondo e quando ti senti pronto apri gli occhi in la mia una un'esprez un'esprez l'esprez del